Scartiamo questa pagina Ha impacchettato proprio Ti riprendi, io scarto Gli attaccati E' fatto una presa Non senti il carro così Tu cacchi pure, da 40 gradi Sì Apri lo sportello ora Apri lo sportello E' meglio Eh sì Ma ti mando su Youtube Ma ti mando su Youtube? Grazie Aldo Sei grazie Così questi paesi li chiamano Minimo Minimo Ma una cosa, portaci pure cecio qua Questi paesi Pure cecio E' il cecetto nostro che fa che si nasconde E' dove vai per te, ti sto ripreso Ti sto ripiando cecio eh Ti metto Il rete pure a te, guarda Ma che è bene cecio Ti stai ripiando Vai Ti stai ripiando Ah c'è le ostriche stasera ti faranno male? San Cabbana eh Ti mangia tante ostriche Ma che ostriche? Oggi è benedì ostriche Ah c'è ma l'ultima volta ti sei fatto una scopata Quando è stato? Lasciamo perdere Come lasciamo perdere o? Ma che fai? Non si scopa più c'è? Ma che si scopa? Provai, una volta Ahie Una volta si scopava Adesso si va a letto e si dorme e basta E 5 contro 1? Sempre, come vecchi tempi Ah 100 uomo, come sta messo con i 5 contro 1? Manco quelle E ti serve solo per pisciare un Ah ma c'è la lingua? Rispondi eh Che fai con la capoccia così? E fai i bocchini pure tu Che fai? Sarebbe solo per pisciare Ehi Aldo A Provenza come sei messo te? Io sono 3 mesi che non so come è fatto Non mi ricordo L'ultima volta che avevo visto In fotografia? Che hai fatto la foto l'hai messa sopra il cuscino Grande Aldo Grande Aldo Grande Aldo Eh, ora hai fornito Ora io metto i pezzi qua dentro E ora io metto